Nuovo attacco, ancora lupi in azione. Si torna sull'alto piano dalle parti di Lusiana. Ecco la scena macabra che si è presentata di fronte agli occhi di un cittadino mentre stava andando al lavoro. L'uomo ha pubblicato immediatamente le foto. Un animale completamente sbranato dalle fauci del branco. La situazione è stata segnalata prontamente alle forze dell'ordine. Dall'inizio dell'estate sono decine gli attacchi segnalati. Nonostante tutto ancora nulla di concreto è stato fatto. Amministratori e malgari aspettano le prossime mosse della regione e dell'assessore Pan. La deroga al piano lupo è stata bocciata ma per gli addetti ai lavori l'intervento deve avere la massima urgenza.